Qualche anno fa, l'Apo Elkan, giovane rampollo della famiglia Mielli, è stato ricoverato al pronto soccorso di Torino in circostanze che gli hanno permesso di ridefinire il concetto stesso di figura di merda. La divulgazione dell'episodio ha dato grande scadere, le sue ripercussioni sull'economia rimangono ignote perché gli analisti di mercato stanno ancora ridendo adesso. Per questo abbiamo fondato la LIMAT, la Lega Italiana per i manager in difficoltà. Se sei un giovane imprenditore e nel corso di una serata fra amici dovessi ritrovarti chissà come con una bannocchia nel curo, non andare al pronto soccorso, telefona al nostro numero verde. Una squadra di esperti nel pronto intervento risolverai il tuo problema con la massima discrezione e lasciandoti poi regolare fattura con la causale Master di Approfondimento nel Messai del Training. Grazie amico, saluto in azienda. Grazie. Grazie. Grazie.